Buona giornata, prima edizione del TV Giornale di Telestense di questo 16 aprile. Apriamo subito con una notizia arrivata in tarda mattinata relativa a un terremoto di magnitudo 4.2 secondo le rilevazioni dell'INGV avvertito alle 11.42 in provincia di Piacenza con epicentro esattamente a Cerignale. Il sisma è stato avvertito in varie zone del nord Italia in particolare in città quali Milano e Genova ma al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose e eventuali approfondimenti nell'edizione di questa sera. Parliamo invece di una notizia di cronaca legata al nostro territorio. Teneva aperto un laboratorio tessile impiegando in nero alcuni connazionali clandestini in Italia. Ieri durante un controllo dei carabinieri ha chiuso il cancello impedendo loro di entrare e gli ha spintonati. Per questo a Porto Maggiore nell'ambito delle verifiche per il contrasto alla diffusione del coronavirus i militari hanno arrestato un uomo di origine cinese di 34 anni residente in zona e accusato di resistenza pubblico ufficiale e impiego di cittadini stranieri clandestini. I carabinieri hanno scavalcato la recensione e hanno bloccato sei cinesi tutti senza documenti e irregolari. Uno di loro è stato raggiunto sul tetto dove si era nascosto e sono stati denunciati e gli è stato notificato il decreto di espulsione emesso dalla Questura. Torniamo invece a occuparci in questo caso di coronavirus in senso stretto. Parliamo degli ultimi dati. In Emilia Romagna sono 21.029 i casi di positività, 277 in più rispetto alla giornata di martedì. Intanto, aggiornato ieri, sono 4 le persone decedute a Ferrara nelle 24 ore precedenti, mentre sono 14 i nuovi contagi. C'è però un dato positivo, lo ha evidenziato ieri sera il commissario d'acta Sergio Venturi. Le notizie sono la più positiva in assoluto e che dico con molta soddisfazione che per la prima volta i dati dei guariti superano i dati dei nuovi infetti. È la prima volta che succede in Emilia Romagna. Stiamo parlando naturalmente di casi totali. Quelli di oggi sono 277 in più, ma le guarigioni sono 395. E l'elemento che lo rende attendibile ancora di più questo dato è che, a differenza di ieri e ieri l'altro, non commentiamo 2.500 test, ma ne commentiamo 4.253. Quindi un dato non il più alto in assoluto di queste settimane, come il numero di test effettuati, ma comunque un dato significativo, è un dato che ci consente di avere un po' di più di ottimismo, perché oggi è un giorno feriale, ieri era un giorno feriale e insomma questa positività nei guariti associata a questo numero più basso di nuovi contagiati, devo dire che ci dà un po' di respiro ulteriore. Abbiamo complessivamente quasi 9.000 persone che sono a casa propria e che sono prive di sintomi, sono 8.966, sono 50 in meno di ieri, per il semplice motivo che ne sono uscite 50 in più di quelle che sono entrate, sono state dichiarate ufficialmente guarite. Abbiamo 325 pazienti in terapia intensiva, sono 3 meno di ieri e anche negli altri reparti Covid abbiamo 85 ricoverati in meno. E vi ricordo il prossimo aggiornamento nel tardo pomeriggio, ve ne parleremo come sempre nell'edizione delle 19.30 del nostro TV giornale. Parliamo adesso di un tavolo di lavoro diverso da quello che si è svolto sino ad oggi in Prefettura Ferrara e le richieste in particolare dei sindacati provinciali che chiedono un lavoro con le istituzioni della salute e della medicina del lavoro in grado di tutelare i lavoratori nelle aziende e nelle fabbriche in vista della fase 2. Sentiamo dunque a questo proposito Cristiano Zagatti, segretario generale della CGL di Ferrara. Non immaginiamo la ripartenza della fase 2 come semplicemente schiacciare un bottone e tutto riparte. Ripartirà sicuramente un'economia, ripartiranno le filiere produttive, non ripartiranno come le abbiamo conosciute prima. Abbiamo sentito il governatore della regione ieri annunciare un milione di mascherine. Allora i dispositivi chirurgici sono mascherine chirurgiche che prevedono una sostituzione ogni 4 ore. Pensate ai turni di lavoro e prima vi ho detto che sono in questa fase 60.000 gli occupati. Vuol dire che il milione di mascherine che arrivano dalla regione nel giro di 2 giorni, 3 giorni, al massimo 4, sono tutte consumate. Pertanto è indispensabile a proposito di ragionare su cosa serve all'interno di questa provincia anche in termini di nuove filiere produttive, di come renderci autosufficienti nella produzione dei dispositivi, in questo caso delle mascherine ad esempio. Allora bisognerebbe certo sì qui stimolare anche il tessuto imprenditoriale provinciale che non mi sembra aver brillato anche sul tavolo dell'economia di grandissime idee, se non comprensibilmente una richiesta a più voci di avere una disponibilità importante di liquidità in questa fase che ripeto comprendo. È indispensabile l'accesso al credito ma dobbiamo anche avere delle idee per immaginare la prospettiva produttiva di questo territorio all'interno del contesto regionale. senza idee e di idee mi sembra che se ne fossero messe giù parecchie all'interno del patto per il lavoro provinciale, sembrano davvero non essere colte da chi ha il titolo di imprenditore. Il prossimo passo a breve termine dal vostro punto di vista quale sarà? Il nostro passo, il nostro a breve termine speriamo di poterlo fare il passo, lo ripeto e provo anche a chiarirlo bisogna prevedere un tavolo diverso da quello che fino ad oggi si è svolto all'interno della prefettura con tutte le parti datoriali, con le parti istituzionali che hanno responsabilità sia sulla sicurezza del lavoro ripeto e la legalità per cui ITL, INAIL, azienda ASL per poter capire come andare a ridefinire l'organizzazione del lavoro attraverso degli accordi verificabili. Non diamo la stura immediatamente alla ripartenza generalizzata perché c'è un altro elemento importante del quale dobbiamo tenere conto. È fondamentale ripartire dalla fase 2 ma attenzione alla capacità che oggi ha la rete ospedaliera di poter accogliere e dare una risposta ai pazienti perché siamo ancora in quella fase in cui il contagio e il pericolo del contagio non è che l'abbiamo superato scampato. Pertanto sappiamo che oggi la rete ospedaliera anche all'interno della provincia di Ferrara lavora a scartimento ridotto perché è quasi completamente dedicata a dare una risposta sanitaria ai pazienti affetti da Covid-19. E adesso due notizie che si legano al territorio delle campagne e dell'agricoltura. La prima arriva dal Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara che lancia l'allarme nutri e stimate attorno alle 500 mila che metterebbero a repentaglio le produzioni agricole, l'incolumità pubblica e la tenuta arginale dei corsi d'acqua. Bisogna intervenire prima che i danni alle colture e il rischio idrogeologico aumentino per non parlare degli incidenti e anche i gravi accaduti agli agricoltori a causa dei cedimenti del terreno dovuti alle tane. A ricalcare il problema di sostenibilità dovuto alla crescita esponenziale dei roditori della palude è Franco Dallevacche, presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara al quale ha affidato il compito di mantenere in equilibrio il delicato sistema del bacino idrografico estense. E intanto quattro aziende su dieci relative al settore agricolo sono in crisi mentre in parallelo continua a crescere il prezzo di frutta e verdura e quanto denuncia col diretti Emilia Romagna. Dalle mele alle patate l'aumento dei prezzi per i consumatori ed un tasso superiore di 40 volte quello dell'inflazione è un pericoloso segnale di allarme sullo sconvolgimento in atto sul mercato di frutto e verdura con le difficoltà nelle esportazioni, la chiusura delle mense dei ristoranti e la mancanza di lavoratori stranieri che alimentano anche speculazioni con compensi che in molti casi non coprono neanche i costi di produzione degli agricoltori. E' l'allarme lanciato dalla Col di Retti nel sottolineare che sulla base dei dati Istat relativi all'inflazione a marzo si evidenziano il dettaglio nel carrello della spesa sulla frutta del 3,7% con punte del 4% per le mele e del 4,1% per le patate a fronte del dato medio sull'inflazione in discesa allo 0,1%. Quasi 4 aziende ortofrutticole su 10 sono in difficoltà secondo l'analisi Col di Retti X anche per il cambiamento delle modalità di acquisto con gli aumenti mensili di spesa che vanno dal più 14% per la frutta al più 24% per gli ortaggi nei supermercati che non hanno così compensato le perdite all'estero e alla ristorazione, aggiunge Col di Retti. La situazione è drammatica per molti agricoltori con i raccolti già impoveriti dall'alternarsi di gelo e siccità per un andamento climatico del tutto anomalo al quale si aggiungono gli effetti della mancanza di almeno 200.000 lavoratori stagionali che, sottolinea la Col di Retti, mette a rischio le forniture alimentari degli italiani. Per combattere le difficoltà occupazionali in Italia, garantire le forniture alimentari e stabilizzare i prezzi e l'inflazione con lo svolgimento regolare nelle campagne di raccolta in agricoltura. La Col di Retti ha varato la banca del Job in Country, autorizzata dal Ministero del Lavoro, con le aziende agricole che assumono, alla quale sono già arrivate 1.500 offerte di lavoro. Ma per consentire a tanti casse integrate, studenti e pensionati italiani che si sono proposti, lo svolgimento dei lavori nelle campagne è necessario però subito una radicale semplificazione del voucher, in un momento in cui scuole, università, attività economiche e aziende sono chiuse e molti lavoratori in cassa integrazione potrebbero così trovare un'occasione di integrazione del reddito proprio nelle attività di raccolta nelle campagne, conclude l'Associazione dei Coltivatori Diretti. E adesso un appello importante, chiamate il 118 quando presentate sintomi che si possano ricollegare all'ictus. Questo appello arriva dall'Associazione Alice Ferrara attraverso uno spot sociale di cui ci ha parlato il Presidente Claudio Mari. L'ictus come l'infarto ischemico eccetera sono patologie tempo correlate, quindi il tempo è fondamentale. I successi nei confronti della malattia sono soprattutto se la persona va al più presto in ospedale. Tutta la campagna nasce su un presupposto molto importante. Le persone che vengono prese dal 118 e vanno direttamente in ospedale hanno un percorso diverso da quello del Covid-19. Con questo tengo a precisare che tutte le persone che a rischio o che hanno sintomi del Covid-19 sono tutte da un'altra parte al pronto soccorso. Per cui le persone che hanno dei problemi a rischio di ictus, di ischemia, di infarto eccetera debbono chiamare, allertare il 118. L'operatore del 118 sa che cosa fare, chiamerà subito il pronto soccorso e si attiverà tutta una macchina per cui, tutta una serie di persone, per cui le persone potranno andare poi all'interno dell'ospedale senza passare vicini a dove c'è il reparto del Covid-19 per poi fare l'eventuale trombolisi, la tramectomia meccanica eccetera, quindi salvarsi la vita. Entriamo allora nel vivo di questo spot, di questo promo insomma che sta girando sui canali web. Com'è composto e insomma che cosa comunica? Allora intanto devo ringraziare le persone che hanno collaborato a questo video che sono due persone che hanno fatto il lodovico. Una è Valeria Vitali e l'altra è Totò Cappone. In più c'è l'altra persona che parla in fondo che è mia moglie che parla di queste cose perché in questi giorni con il Covid-19 non siamo stati in grado di fare le cose in maniera diversa. Totò Cappone comunque ha registrato il video da Salerno dove vive adesso. C'è ognuno di questi testimonial, uno sono io tra le altre cose in mezzo, che diciamo i sintomi che proviamo e che abbiamo paura a chiamare il 118. L'ultima persona dice non abbiate paura a chiamare il 118 perché comunque il percorso è diverso. E adesso andiamo invece a Comacchio dove il Comune e l'Istituto Superiore Remo Brindisi hanno stretto un accordo fino al 2022 per lo sviluppo del territorio. Sentiamo di che si tratta. Il Comune di Comacchio e l'Istituto Superiore Remo Brindisi del Lido degli Estensi hanno stretto un accordo valido fino al giugno 2022 nel quale si impegnano ad avviare strutturate azioni congiunte per favorire l'integrazione tra la filiera formativa e il tessuto socio-imprenditoriale del territorio. Un documento sottoscritto dalla dirigente scolastica Silvia Tognacci e dalla dirigente turismo, istituti culturali e servizi alla persona Roberto Cantagalli. L'obiettivo è quello di realizzare una formazione sempre più mirata con lo scopo di favorire processi di cittadinanza attiva, incrementare le opportunità occupazionali e migliorare la competitività territoriale nel suo complesso. A sostegno dell'accordo un piano di azioni molto concrete, la creazione di opportunità di incontro fra offerta e domanda di lavoro che trovino nella scuola momenti di centralità, sia sotto il profilo della logistica che della promozione delle opportunità occupazionali correlate alla formazione, ma anche analisi dei bisogni formativi e delle competenze richieste dal mondo produttivo del territorio, vocato particolarmente al turismo. L'accordo rappresenta un ulteriore passaggio perché esprime il carattere prioritario destinato all'investimento del capitale umano, riconosciuto quale fattore centrale di sviluppo socio-economico nel più ampio progetto Comacchio 2015-2020, sottoscritto da tutti i più importanti stakeholder territoriali in ambito istituzionale, sociale, economico ed educativo, in cui l'Istituto di Istruzione Superiore Remo Brindisi, con il suo patrimonio umano costituito dagli studenti e dai docenti, rappresenta a tutti gli effetti un punto essenziale e strategico. Intanto in questo periodo di emergenza i teatri, come molti altri luoghi dediti all'intrattenimento, sono ovviamente chiusi. Ma quali sono gli obiettivi per i prossimi mesi del Teatro Comunale di Ferrara? Ne abbiamo parlato con il consigliere di amministrazione Alessandro Mistri. Devo dire che noi avevamo appena iniziato a cercare di fare qualcosa di nuovo, di stimolante, per dare continuità a quello che già brillantemente era stato fatto in passato e adesso avevamo noi come consiglio di amministrazione l'impegno di far diventare sempre più forte il teatro. Teatro che non dimentichiamo attraversava già prima di questo periodo del coronavirus tante difficoltà, legate proprio a quello che è diventata la società rispetto a una volta. Devo dire che questa grande spinta iniziale che fra l'altro abbiamo costantemente anche all'interno del consiglio di amministrazione, ci sentiamo spesso e devo dire che andiamo tutti dalla stessa parte, c'è stata un po' interrotta da questi avvenimenti. Il nostro impegno è quello appena sarà possibile di riprendere con questa nuova strada che deve portare a una solidità di bilancio, sempre per gravare il meno possibile su quelle che sono le finanze del Comune, che pure è l'unico socio della Fondazione del Teatro Comunale. E poi soprattutto capire quali sono le nuove istanze da portare avanti, perché l'idea è quello che il teatro sia sempre più un teatro per la città e dove la città provi veramente a incontrarsi, cosa che forse un po' si è persa, ma proprio perché è la società che si è persa in questo senso. È molto difficile, devo dire, perché questo virus, secondo me, facendo una piccola riflessione se mi permettete, per non raccontare soltanto la quotidianità di quello che ciascuno di noi fa, senz'altro, non ha fatto altro, secondo me, che evidenziare tutto quello che non funzionava prima, solo che finalmente se ne sono accorti un po' tutti. E per cui tante riflessioni che facevamo a livello individuale, a livello collettivo magari non venivano fatte, perché c'era un sistema, c'è ancora un sistema della società che è abbastanza così uniforme e uniformante. Adesso io non so, perché tutti dicono, non vediamo loro tornare alla normalità, ma la normalità cos'è? Tornare a quello che si era prima con tutte queste difficoltà di dare un senso alla società oppure, come altri dicono, saremo tutti cambiati, senz'altro saremo cambiati dal punto di vista economico perché saremo più poveri, ma saremo veramente cambiati dentro al punto da desiderare di trovarsi in un teatro per ascoltare un'opera, per vedere un balletto, per sentire qualcosa. Allora, questo Consiglio di amministrazione sarà chiamato a un'opera molto ardua, al di là del bilancio, di capire come continuare a fare un'opera di diffusione della qualità e della bellezza, però tenendo conto che la società sempre di meno chiede le stesse cose, queste cose qua. Con questa notizia siamo in chiusura per l'edizione meridiana del TV Giornale, vi ricordo che torneremo regolarmente alle 19.30, ma tutti gli aggiornamenti li trovate come sempre su telestense.it e sui nostri spazi social. Grazie dunque come sempre per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Telestense. Grazie. 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 Grazie.